Max Felicitas, l'attore un po' così e così, un po' baldracco dei social, è stato sgamato. La sua huracan d'oro? No, non era sua. Ti lascio al video di Salvatore e ci vediamo al mio prossimo video YouTube. Eh sì, pare proprio che abbiano steccato la Lambo di Max Felicitas. D'altronde il colore è inconfondibile. Guarda qui Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. Eeeh... Adesso! La guardia di finanza di Gallarate ha sequestrato 5 supercar che varie società di autonoleggio concedevano il leasing in provincia di Varese. L'attenzione delle fiamme gialle è stata attirata dalle targhe svizzere e da un'indagine successiva è venuto fuori che i car renting non avevano versato i oneri doganali per poter circolare oltre confine. Ecco le macchine. Si tratta di una Porsche Macan, una Porsche 911 Carrera 4S, una Mercedes classe G63 AMG V8, una Lamborghini Huracan e una McLaren 570S. La Lambo sembra proprio quella utilizzata da Max Felicitas. Vatti a rivedere il video dove risalivo alla proprietà svizzera della Huracan. Comunque il bro sembra non rischiare nulla mentre i noleggiatori italiani di auto sono accusati di contrabbando aggravato e le macchine tutte e cinque sono state sequestrate. Vatti a rivedere il video dove risalivo alla proprietà svizzera della Huracan.